Devo dirvi una cosa voi due, ho scelto voi due perché siete più intelligenti, ok? E io sono il più stupido, infine. No, no, siete più intelligenti. Io vorrei sapere, in questa situazione politica in cui ogni tergivergenza non è poi così convessa in un... come si può dire? In un... In un big money. In un big money, non si può... Ma lo sai cos'è il big money? Il big money non lo so, cos'è? Sono i soldi. Ah, sono i soldi, ecco, questo dicevo. In una big money di questo tipo, dove c'è chi tira dalla sua parte, chi adotta politiche meno, io direi, politicamente scorrette, tu cosa faresti? Niente. Niente, vero? Cioè bisogna lasciarli andare come sono, giusto? Sì! No, se i ladri rubano i soldi, noi li dobbiamo andare a rubare e darli di nuovo alla gente. Ah sì, porca miseria. Come Robin Hood. Sì. Come Robin Hood, giusto? Lo conosci Robin Hood? No. Robin Hood. Robin Hood, non lo conosci? Robin Hood. Chi è Robin Hood? Robin Hood è una persona che è in mutande. È in mutande, in mutande. Mutande? Sì. Adesso fermi e devo chiedervi una cosa seria però.